Lascio, faccio un conto alla grande, spannometrico, quindi un terzo è rappresentato dai pazienti covid. Se facessimo la proporzione, proviamo a farla, ma proviamo a farla esatta. Allora, 47.332 sta a 2.535 come 2.000 sta a x. La proporzione? Siamo tipi per i medi e si deve per gli estremi. Però, Presidente, lei va poi a cercarselo crozza con il lanternino? Ah beh, ma questa è una proporzione, guardate dopo, ricordiamoci, facciamo fare una nota proprio dall'ingegner Bortolà, che sa questi dati, ti ricordi Carlo? Una breve nota che sia comprensibile, perché noi a questo punto, io ho detto ai miei, che nessuno si prenda ferie, perché fino ad aprile e maggio qua è meglio che ne si faccia ferie. Filippo, oggi te che frega, non sei più il pistolero? No, 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 sto chiedendo a Federico. Insomma, oggi siamo proprio a... C'è il Giacomozzo di taser, ma no? Guardate, avete visto, alle due e mezzo di stamattina mi è arrivata la bozza del DPCM. Quindi, io l'ho letta stamattina alle due e mezzo. Nei giorni 23, scusate, 25, 26 e primo gennaio, divieto il spostamento all'interno della regione. 25, 26 e primo gennaio. Sì, scusate, tre comuni, scusatemi. Allora, tu chiudi Badia Calavena, chiudi Badia Polesine, chiudi Colceresa, lo pronuncio sempre male, chiudi Laghi, chiudi Roccapietore. Buonasera, Zaia. Allora, buonasera a tutti. Buonasera. Eh, dirò una roba che Franca sa qualcuno. Ah, cosa? Conte mi ha mandato un nuovo DPCM. Certo, certo. L'ho letto stamattina alle due e mezza del mattino. Urca, due e mezza. Renata. Chi è? Chi è Renata? Sei mattina a due e mezza. Chi è Renata? Sei notte. Vabbè, non importa. Vabbè, del mattino a sei notte. Vabbè, a due e mezza. L'ho lesuto perché era a telefono con Rigoli. Ah, è famoso con Rigoli. Ma ha telefonato a Rigoli. Ah, sì. Che lui lavora a De Notte, anche a mia. Eh, certo, certo. Sta lavorando su certi tamponi che quando infine il naso suona ha Gingham Bears. Edizione natalissima. Vabbè, non c'è bisogno adesso. Comunque. Ah, proprio... L'avevo qui. Cosa c'è? Non riesco a parlare. A proposito del Natale. Ecco, parliamo del DPCM. Allora, il governo dice che no, Natale non si può spostare tra regioni. No, no. Convetti. Eh, Camia, non è tra? No, non solo, cioè... Tra cammini? Ma no, che cammini? Comare. Comuni. Eh, comuni. Comuni. Esatto, esatto. Tra comuni. Camia. Cosa? E metti me in altabea con i comuni dentro a Cartea. Vabbè, ma si poteva sapere. Camia. Camia! Celindo! Il presepe vivente lo puoi rimandare? Ah, perché sta facendo il presepe vivente? Sposta... Oh, Camia! Camia! Ma, Camia! Mi distrae, Celindo! Fermate un po' col presepo! Ma, infatti, il presepe... Dico solo che ci sono comuni e comuni. Ecco, parliamo segnale. Ecco, te lo fai in altabea con i comuni, perché... Eh, questa cosa non è giusta. Roma sono metropoli grandi da noi. Sì, questa è una regione, se si può chiamare regione, Tarraparia... Sì, Veneto è una regione. Veneto si è fondata sull'umanità. Ah, c'è un rapporto... Il secondo conto è Ferruccio, che ha sua nonna che abita proprio qui a Colcagoto. Non può andare a trovarla a Natale. Eh, lo so, è dura. No, dai! Eh, lo so, è dura. Sua nonna è Lisa Poareta, che la conosciamo tutti, no? Sì, sì. Non è nata. Ma chi è? E qui ha casco Iosi, no? La nonna di Filippo. E qui ha piegata in due, che chiamiamo Startup, no? Vabbè, ma poverino, adesso non dico. Ma no, io voglio dire questo. Io capisco che da noi è così, siamo tutta una comunità. È vero. Non ci puoi chiudere. Eh, però... Io gli ho detto a Conte, gli ho buttato la citazione di Salusto, seratore romano del... Ma no, ma no, faccio le citazioni del... 442 con il mediano di spinta avanti Cristo, perché... Ma che mediano di spinta? Anche i leghisti reggono. Ma sì. Perché i leghisti reggono. Eh, beh, non si... Io a casa dei libri che avrò un peso netto circa dei 150 boadini sgociati. Ma che unità di misura hai il boadini sgociati? Eh, ma... Era tempo che avresti lo dovuto... Eh, no. Lasci stare, lasci stare. Era... Che avrei il rilo, dovendo lo fallo. Avrindo falluto da... Filippo, Filippo, se ti chiudi quella porta per non far entrare il cameo mi fai... Ma anche il cameo arriva, sì. Va bene. Chiudiamo un po'. Ma chiudete questa porta così parla normalmente. La uva la pesti dopo. Ma chi è che pesta l'uva? Ragazzi, io dico una cosa. Mettemoselo in testa. Cosa? Quest'anno non è un Natale normale. Vero. Gli altri chi? Non si potremmo ciappare ferie, eh? Niente ferie. Niente ferie, eh? Giusto. Camilla, bisogna che mi... Eh, Camilla. Cosa c'ha adesso? Gelindo, a Sampogna. Ti prego, non farla ora a Sampogna. Non lasci stare. A Sampogna ti fai dopo. Camilla, bisogna che ti metciami. L'ingegner Bortolà. Ma chi è? Che faccia una nota che si capisca bella chiara. Per le ferie. Guadín. Noi non si prende... Devi scrivere. Camilla. Sì, va bene. Che noi si prendiamo ferie. Va bene, lo dica Bortolà, Camilla. Guadín. Quant'è che non si prendiamo ferie noi? Dico tu, Guadín. Dove sei Guadín? Non so. E in ferie? Come in ferie? Ma si appena ha detto che... Vabbè. No. E poi a dirle ha prese. Eh, vabbè. Dai. Poi la gente ride. Vabbè, comunque, per fortuna che i dati dei tamponi rispetto ai contagi, a livello pro-orsione, sono incoraggianti. Ah, ecco, i dati se ce li vuole dare, sì. Abbiamo dei dati che sono incoraggianti. Ora trovarli questi dati. Ecco, una guadio qui. Eccoli. Sono 47.332. 2.000, nell'altro 2.535 e 4.000. Non capiamo però cosa... Proporzione è chiara, no? No, 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 chiarissimo. Ingegneri Bortolandi... Ingegneri? Cosa c'è? Lei è il Bortolandi Cariate di Valsegana? Ehi, ma chi? Quelli che avevano sia con l'occhio solo. E noi siamo a Vantassina, sì. Ma mamma mia, ma che... E' una popolazione a Veneta. Infatti mi pareva. Beh, allora, ingegneri, verifichi coacca colatrice, mentre io faccio la proporzione a mente. Dunque, se 47.000 sta nel 2.530, e 2.000 sta nel 4.100, prendiamo gli estremi, amare gli estremi, dobbiamo trovare la X. Eh, appunto. La X, che è un'incognita, la X. L'avevo qua, Camilla, la X, dov'è la X? Ma non può essere lì, la X. In questa cartella, non c'è, non c'è, in questa cartella a X. Vieni a vedere te. Ma mamma mia, ma che... Che è col geretto, ma non c'è... Ma non c'è la X, non c'è la X. La X è un'incognita, la X. Dov'è? Sì, ma dov'è la cartella? Ah, l'altra cartella, l'altra a Gordina? No, sta a 300 metri. C'è un comune diverso, Camilla, non che potevamo andare. Ah, è vero, i comuni non si può andare. Eh già, eh già, eh già. Qualcuno? Eh. Lidere, se smetti di pigiare l'uva, c'è un comune, un congiunto avalato a Gordina. Filippo? Ma lasci stare. Ah, di che può andare Filippo? Ah, Filippo, può andare Filippo. Come mai? Che congiunto... Eh, faccia andare Filippo. Cosa c'è? Camilla, ti hai sentito cosa ha detto Filippo? Noi non l'abbiamo sentito, cosa ha detto? È Fio de Bertolo, Don Bertolo. Ma prete, eh? Ma no, ma non credo, no, no, ma no, ma non può essere Filippo il figlio del prete. Anche lei portolante. No, ma come quanti figli ha il prete? Ma qua, anche il buadì, anche tu Camilla. No, vabbè, dai, non è possibile. Ma quando ha cominciato a far figli di Don Bertolo? Ma troppi ne ha fatti. Ha 50 anni, ha 17 anni. Ah no, sono 50 anni, 84, ragazzi. Ha 84 anni Don Bertolo. Quattro anni, ma già sentite la rappresenta che è iconità del spermatozoi fratto vaie del comune di Vallata Guardina. Lasci stare, lasci stare. Allora, giornateci sopra. È agghiacciante. Cosa c'è? Sentite anche voi sto rumore di assimi? Sì. Ma no, no, no. Ma no, no, no. Ma no, 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 no. Ma no, 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 no. No, 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 no. Ma sta mettendo incinta a Rosina? No, vabbè, no. Camilla, tocca giornata, bea dei figli di Don Bertolo.